Bentornati a Radio Puggini On Air. Parliamo oggi di quello che è successo in giornata a Chef Rubio, che è stato aggredito e picchiato violentemente davanti a casa sua. Mercoledì sera Chef Rubio, noto personaggio televisivo il cui vero nome è Gabriele Rubini, è stato aggredito davanti a casa sua a Frascati, vicino Roma. Lo ha detto lui stesso postando un video su Twitter, in cui si vede la sua faccia tumefatta e coperta di sangue. Secondo Rubini, l'aggressione sarebbe stata compiuta da sei persone, che lo avrebbero aspettato fuori casa avrebbero bloccato il cancello del palazzo per fermarlo. Rubini ha attribuito il passaggio agli ebrei sionisti e agli sgherri della mafia sionista, in pratica sostenitori dello Stato di Israele che lo avrebbero aggredito per via del suo aperto sostegno alla causa palestinese, espresso spesso con toni molto forti ed estremamente critici nei confronti di Israele. Le affermazioni di Rubini non sono state confermate dalle autorità e al momento non ci sono elementi per verificarle e identificare gli aggressori. Rubini ha detto di avere una ferita in testa dovuta a una martellata, taglie ed esquerazioni causate da colpi di mattone e una frattura dell'orbita faciale dovuta a 60 pugni mirati. Sui social si possono vedere le immagini che lui stesso ha postato. Con questo è tutto da Radio Bugini.